Metto le Jordan, scendo la scala, scendo a Bagnoli, frate sono a casa. Scrivo canzoni su bassi trap, quindi rap melodico. Sono Luca Ferrettini, ho 18 anni, abito a Milano, ma sono nato a Roma. Io mi sento senza ombre di dubbio più romano che milanesio. Milano è casa, Roma è il cuore. Da adolescente ero una testa calda, ora mi ritengo maturato, però ci sono dei momenti in cui l'istinto prevale assolutamente. Mio nonno faceva il militare e mi regalava sempre i calendari delle forze speciali. E mi immedesimavo, voglio vedere come io con la mia testa e le mie idee riesco ad adattarmi a una vita così rigida. Grazie a tutti.